5, 4, 3, 2, 1, vai, destra 4 doppia apre, a 5, in attenzione stacca, inversione in sinistra asfalto, dai qui, occhio a andare al salto sullo sporco, in destra 3, attenzione stacca sconnessa, inversione in sinistra a terra in sinistra 4, brava Nico, in sinistra 4, in destra 5 con dosso, in destra 3, corta no, destra 3, corta no e subito dosso su destra 5 50 dosso dritto, occhio, occhio 100 e attenzione dosso su sinistra 4, no beh, l'abbiamo finito abbiamo finito il rally abbiamo finito il rally sempre sul nostro carroattrezzi in anticipo in anticipo un ringraziamento enorme comunque a Santero che permette davvero tanto a Nicoletta e tutti gli altri sponsor che comunque puntano su una giovane pilota anche se siamo trentenni, noi siamo giovani di spirito diciamolo che non sono solo quelli che hanno 18 anni che dobbiamo portare avanti, ma tutti ecco e un grazie a Realitalia Talent che comunque ci ha fatto conoscere dopo 4 anni più o meno siamo insieme a correre abbiamo da una parte coronato un sogno comune e chissà ho fatto venire in Sardegna buona la prima speriamo ce ne siano tante altre dai un ringraziamento a tutti e alla prossima dai alla prossima Eli ciao ciao